Buongiorno a tutti i tre spettatori di Medicina Facile, in questa nuova puntata ci occuperemo di una disciplina innovativa, diciamo relativamente innovativa, la medicina rigenerativa che si occupa del ripristino strutturale e funzionale di tessuti ed organi. Quali applicazioni può trovare in ortopedia? Lo chiediamo al nostro graditissimo ospite, buongiorno e bentornato nei nostri studi, al dottor Gabriele Tavolieri. Buongiorno a lei, buongiorno ai spettatori. Come sta? Sta bene? Bene, grazie. Dottor Gabriele Tavolieri, dirigente responsabile dell'ortopedia Casa di Cura Pierangeli di Pescara. Intanto spieghiamo ai nostri tre spettatori che cos'è la medicina rigenerativa da un punto di vista generale, diciamo. Sì, diciamo che la medicina rigenerativa è una particolare branca della medicina che ha come obiettivo quello di cercare di riparare cellule, organi, tessuti, nel caso specifico dell'ortopedia, le articolazioni o per meglio dire le cartilagini. Ma per fare questo non fa fa una sostituzione, come può succedere per esempio nella chirurgia protesica, ma cerca una rigenerazione biologica. Cosa vuol dire? Che noi cerchiamo la guarigione biologica del tessuto, in questo caso della cartilagine, o per meglio dire cerchiamo un'autoguarigione. Perché? Perché il paziente è al tempo stesso ricevente ma anche donatore del tessuto. Parliamo proprio dell'ortopedia, ha già fatto qualche accenno lei nella sua introduzione. Queste metodiche che poi spiegheremo, queste tecniche che poi spiegheremo ai nostri tre spettatori, ad esempio vanno bene per tutte le articolazioni e non solo? Diciamo che le articolazioni che più si possono giovare di questo trattamento sono quelle sottoposte al carico, cioè quelle che maggiormente possono avere un problema di natura artrosica, quindi sicuramente l'anca e il ginocchio, ma anche la spalla. Noi sappiamo che la spalla sicuramente non è un'articolazione soggetta al carico, ma nel lavoro quotidiano, nell'attività sportiva, l'articolazione della spalla può comunque subire delle lesioni, in questo caso riparabili anche con un trattamento con cellule e con una chirurgia rigenerativa. Quali sono le novità terapeutiche che poi illustreremo nel dettaglio ai nostri tre spettatori? Noi abbiamo due grandi possibilità, una è quella del sangue, i derivati del sangue e l'altra invece, ed è la cosa realmente nuova, sono cellule derivate dagli adipociti, cioè dal grasso. Partiamo dal sangue, dalle infiltrazioni di gel piastrinico, c'è una sigla, PRP, che sta a significare? Sono precursori delle piastrine, quindi oggi è il piastrinico. Che trattamento è? Quando sono indicate, oltre che per situazioni di artrosi e patologie degenerative, possono essere utilizzate, questo gel può essere utilizzato anche per le situazioni di danno traumatico? Allora, diciamo che il gel piastrinico ormai è una metodica che noi utilizziamo da oltre dieci anni, noi abbiamo risposto grandi speranze in questo tipo di trattamento, in realtà abbiamo avuto risultati importanti. Nel tempo in realtà abbiamo visto, soprattutto nella mia casistica, nella mia crisi personale, che dal punto di vista della rigenerazione cartilaginea, con studi a dieci anni, il risultato è quasi sovrapponibile all'infiltrazione con acido ialuronico. Tanto stiamo vedendo in questo video il punto segnato in rosso. Sì, è la zona dolente. I maggiori risultati si hanno soprattutto sulle lesioni tendine o sulle lesioni muscolari, cioè quando un tendine è degenerato, infiltrare con gel piastrinico può dare risultati realmente soddisfacenti. Quello che stiamo vedendo praticamente è un'articolazione con un danno cartilagineo. Tanto è un ginocchio. È un ginocchio, sì. La cartilagine usurata comunque crea un tessuto infiammatorio che crea ulteriore usura, ma soprattutto dolore. Con questa metodica, praticamente con il sangue che viene centrifugato, viene separata la parte sierosa da quella corpuscolata. Nella parte sierosa sappiamo essere presente dei precursori delle piastrine che hanno una capacità rigenerativa e questa capacità rigenerativa noi la sfruttiamo, appunto, iniettandola all'interno dell'articolazione e quindi i precursori delle piastrine a loro volta rilasciano dei fattori di crescita, quindi dei fattori che vanno a rigenerare. Sono quelli che stiamo vedendo adesso. Perfetto. Questi sono i precursori delle piastrine che si attaccano alla parte lesionata e rilasciano dei fattori di crescita che vanno poi a cercare di rigenerare il tessuto. Dicevamo, è un trattamento non nuovissimo, noi lo pratichiamo da oltre dieci anni. I risultati sono buoni, sono buoni soprattutto sulla componente infiammatoria, in quanto sappiamo diminuire l'infiammazione all'interno dell'articolazione, sappiamo creare un rilascio, incentivare il rilascio di acido ialuronico e quindi agire sulla sintomatologia dolorosa. Quindi il principale risultato è sul dolore. Per quanto riguarda la rigenerazione cartilaginea, poi magari lo vedremo con la nuova tecnica, sicuramente abbiamo risultati decisamente migliori. Possiamo dire che questa metodica è sostitutiva della chirurgia oppure ad esempio può andare bene solo nelle fasi iniziali della malattia? Come si regola? Allora diciamo che la domanda è pertinentissima. Noi dobbiamo capire che a oggi su un quadro artrosico di terzo o quarto grado, cioè quando il ginocchio, l'anca, la spalla è realmente usurata. È già un grado elevato. La soluzione migliore è ancora la chirurgia sostitutiva, cioè la chirurgia protesica. Nei gradi primo o secondo grado, quando l'usura c'è ma non è così importante, sicuramente la chirurgia rigenerativa dà una mano fondamentale. Quindi molto sta al chirurgo nel dare la giusta indicazione. Se noi pensiamo di salvare un'articolazione realmente compromessa con una soluzione di tipo rigenerativo, falliamo e in questo modo facciamo fallire una soluzione che in realtà è molto buona. Conta anche l'età immagino. Conta in parte l'età ma soprattutto conta il grado di usura della cartilagine. Allora abbiamo preparato un altro video che in regia Francesco Specchiuli può far partire. Spieghiamo bene anche come avviene questa metodica di preparazione e naturalmente ce lo spiega il dottor Tavolino. Allora la metodica in realtà è molto semplice perché consta di un semplice prelievo di sangue, si prelievano dai 10 ai 15 cc di sangue. Una volta che noi abbiamo eseguito il prelievo il sangue viene centrifugato, ci viene messo in una macchina particolare, una centrifuga per 5 minuti a 1500 giri. Questa macchina separa la parte sierosa, quella gialla che vediamo dalla parte corpuscolata. All'interno della parte sierosa, come dicevamo prima, ci sono i precursori delle piastrine, quindi quelle precursori che hanno la capacità di rigenerare e quindi viene iniettata o in articolazione o a livello peritendineo. Come si effettua l'infiltrazione, dottor Tavolieri? Il prelievo si può fare anche in ambulatorio? Allora, qui dobbiamo fare molta attenzione. Siccome c'è una manipolazione del sangue, il prelievo, la prima parte del trattamento deve essere fatto in un centro di ematologia o in presenza di un ematologo. Quindi non si può fare in uno studio medico, non si può fare neanche in una clinica o in un ospedale se non vi è un centro di ematologia. O una figura specializzata. Sì, perché questo è proprio un discorso a livello, diciamo, legislativo che ci dice che manipolando il sangue dobbiamo avere delle particolari accortezze. Quindi, passata questa prima fase, la seconda fase, quella prettamente infiltrativa, si può tranquillamente fare in ambulatorio. Il paziente viene sottoposto ad anestesia? Allora, nell'infiltrazione articolare non c'è assolutamente nessun bisogno di eseguire un'anestesia. Se parliamo di un'infiltrazione intratendinea o peritendinea, sicuramente un'anestesia locale è consigliata. È sufficiente una sola seduta, una sola infiltrazione? Allora, per quanto riguarda i fattori di crescita piastinici, il ciclo è di tre infiltrazioni a distanza più o meno di sette, dieci giorni l'una dall'altra. Vantaggi di questa metodica? Come diciamo, i vantaggi sono concreti, sono reali. Bisogna dare, come dicevamo prima, la corretta indicazione. Sia, diciamo, nella letteratura, che ormai in questi anni se ne è prodotta tantissima, ma anche nella mia particolare casistica, io ho avuto risultati migliori quando ho trattato patologie tendine piuttosto che patologie cartilagine. A oggi, ma questo è supportato da tanti lavori, è stato visto che l'acido ialuronio, quindi una viscosupplementazione, può dare un risultato più o meno paritario con il PRP. Controindicazioni, eventuali effetti collaterali di questa tecnica? Allora, in realtà non ci sono controindicazioni, perché come dicevamo prima, il paziente è donatore e ricevente, quindi noi immettiamo una parte del nostro corpo fondamentalmente. Bisogna fare moltissima attenzione, cosa voglio dire? Che comunque bisogna eseguire ogni manovra, ma questo vale per tutte le metodiche e tutti i trattamenti chirurgici o medici, quindi la sterilità, la sepsi assoluta è fondamentale. I risultati, ci hai detto, sono buoni, soprattutto in pazienti sportivi, magari, dottore? Sì, io ho trattato tanti sportivi, anche a livello agonistico, con questo tipo di trattamento e in effetti i risultati... Calciatori, giocatori di basket... Sì, soprattutto giocatori tipo volley o basket, dove c'è il salto, dove la patologia tendinea, ad esempio del tendine d'Achille o del tendine rotuleo, è più frequente, ma anche calciatori, dove il tendine rotuleo, in questo caso, è quello più compromesso. I benefici da subito, da subito dopo l'infiltrazione? Allora, dobbiamo parlare di due tipi di benefici. Se noi parliamo del beneficio dolore, il risultato non è immediatissimo, ma è abbastanza immediato. Se poi dobbiamo parlare di riparazione vera e propria, c'è bisogno di mesi. Durata di questa tecnica è un, diciamo così, ha effetti definitivi oppure con il passare del tempo e naturalmente con l'usura potrebbe tornare il dolore, potrebbero tornare gli scricchioli dell'articolazione. Allora, il dolore si potrebbe ripresentare perché, se parliamo ancora di uno sportivo, torna a fare sport e quindi torna in qualche modo a usurare, a sollecitare l'articolazione oppure la struttura tendinea. E a rischiare incidenti. Benissimo, ma è ripetibile perché, non avendo effetti collaterali, alla fine parliamo di un prelievo di 15 cc di sangue, quindi una cosa veramente irrisoria. E di tre infiltrazioni. Certo. Parliamo dell'altra metodica che passa attraverso l'utilizzo di cellule mesenchimali da tessuto adiposo. Intanto, che caratteristiche hanno queste cellule? Che potenzialità hanno? Allora, questo è uno studio recente, nel senso, viene a Monte, c'è uno studio molto importante, durato oltre dieci anni, che ha portato a risultati realmente, realmente efficaci. Cioè, è stato visto che dall'adipe, quindi dal grasso, noi possiamo ricavare delle cellule mesenchimali. Cosa sono? Sono delle cellule staminali adulte, quindi sono delle cellule totipotenti, cioè sono cellule in grado di trasformarsi, di diventare altre cellule. Quindi, a seconda del trattamento, se parliamo di lesioni cartilagine, quindi di andare a sostituire e a rigenerare la cartilagine. Questo è uno step veramente molto più avanti rispetto al PRP, che sta dando grosse soddisfazioni, che sta dando risultati realmente importanti. È naturale che anche in questo caso l'indicazione è fondamentale. Anche in questo caso si tratta di innesti autologhi, dottore? Certo che sì, quindi ancora una volta il paziente è donatore e ricevente del tessuto, certo. Quali i pazienti ideali? Tutti si possono sottoporre a questa tecnica, questa metodica? Allora, diciamo che tutti si possono sottoporre perché non ci sono controindicazioni, ma come dicevo prima, è importante dare la giusta indicazione. Se ci troviamo di fronte a un quadro artrosico importante. Ecco, vediamo qualche caso. Perfetto, questo è un paziente, uno sportivo che intorno ai 50 anni, che ha subito una lesione del crociato anteriore e si vede che è stato ricostruito tantissimi anni fa. Anche in questo caso il ginocchio. È un ginocchio, sì, ho portato due casi, tutti e due di ginocchio in realtà. Questo mi fa piacere portarlo perché? Perché in realtà vediamo come evolve anche la chirurgia, quella diciamo tradizionale. Siamo agli inizi della chirurgia artroscopica, ricostruito nel crociato anteriore. È stato ricostruito utilizzando viti metalliche che adesso noi non utilizziamo più. Il paziente nel corso degli anni ha subito anche, oltre che una ricostruzione del crociato anteriore, anche una meniscectomia. Noi prima nelle meniscectomia eravamo molto più, diciamo, invasivi, rimuovevamo il menisco quasi per intero. Quindi il paziente, pur avendo un ginocchio stabile, quindi continuando a fare un'attività sportiva, ha cominciato ad avvertire dolore articolare. La cartilagine, come vediamo, è sì, un pochettino usurata, ma non è usuratissima. Quindi sottoporla a un intervento chirurgico di protesi sarebbe veramente una cosa errata, sarebbe un intervento, secondo me, non idoneo per questo paziente. A per l'età, B per il tipo di attività che fa. 50 anni ha detto, ricordiamo, un 50enne. Qui invece un trattamento con cellule mesenchimali proveniente dal grasso sicuramente è l'indicazione più corretta. Vediamo un altro caso? Questo è un caso emblematico. Qui ci troviamo di fronte alla chirurgia sostitutiva, a sinistra, protesi di ginocchio. Quindi è già stata innestata la protesi. Protesizzata. Dolore al ginocchio di destra, ma onestamente, nel mio modo di vedere, questo ginocchio non è ancora un ginocchio chirurgico, o meglio, non è ancora un ginocchio dove dobbiamo impiantare una protesi, e questo paziente è forse il paziente ideale per poter giovarsi di un trattamento con cellule mesenchimali. Età di questo paziente, dottore? Siamo intorno ai 60 anni. 60 anni. Quindi ha avuto un quadro artrosico importante a sinistra che circa due anni fa lo ha portato a fare questo intervento, ma era necessario. E ha necessitato della protesi. Perfetto. Molto probabilmente il ginocchio di destra si è usurato, naturalmente meno del sinistro, perché cosa succede? Che spesso il paziente sopporta il dolore, parliamo del sinistro. Quindi sovraccarica l'arto controlaterale e sovraccaricando l'arto controlaterale comincia comunque a usurare l'altro arto. Quindi da una parte ha avuto beneficio con l'innesto della protesi a sinistra, però chiaramente ha scaricato maggiormente il peso del corpo a destra. Negli anni prima dell'intervento chirurgico di protesi ha sovraccaricato il ginocchio di destra e ha creato un'usura, non importante, ma ha creato un'usura che provoca un dolore quotidiano. Entriamo nel dettaglio di questa metodica. Intanto come si svolge l'intervento? È necessario il ricovero? Diciamo che si esegue in dei hospital, quindi un giorno il paziente può andare a casa, poi a seconda dei casi o la sera stessa o la mattina successiva all'intervento chirurgico. Anestesia? L'anestesia può essere locale e in alcuni casi è meglio eseguire un'anestesia locoregionale. Durata media dell'intervento? Poi entriamo nel dettaglio. Allora, l'intervento dura tra i 30 e i 40 minuti perché è fatta di due fasi. Ecco, spieghiamolo. Allora, qui abbiamo un kit monouso, quindi abbiamo bisturi, abbiamo delle siringhe specifiche per poter aspirare il grasso, quindi l'adipe e poi delle siringhe altrettanto specifiche per poter manipolare il grasso, quindi centrifugarlo e poi iniettarlo all'interno dell'articolazione. Quindi questo è tutto l'armamento agli arnesi che servono, diciamo. Perfetto, è un kit monouso, quindi specifico per ogni paziente. Dando avanti con il video dovremo vedere anche, ecco qui... Parliamo ancora, diciamo schematicamente, stiamo parlando del ginocchio, potrebbe essere un'anca o potrebbe essere una spalla, quindi diciamo la zona ancora usurata. Qual è il sito che noi prediligiamo per prendere grasso? Sicuramente la parte addominale, ok? Quindi quello che noi andremo a fare non è altro che una piccola liposuzione, cioè, perfetto, una incisione minima di pochi millimetri, ok? A livello addominale. Abbiamo tagliato la parte che magari può sembrare un pochino più cruenta, ma in realtà non lo è, cioè noi inseriamo un ago abbastanza lungo e aspiriamo grasso fondamentalmente. E' quello che si fa poi in maniera magari un po' più importante in una classica liposuzione. Una volta che noi abbiamo aspirato il grasso, il grasso viene messo in una centrifuga, in questo caso a 2500 giri per 4 minuti, dopo 4 minuti viene prelevato e poi facciamo una manovra di emulsione, cioè passiamo questo grasso da una seringa all'altra. Naturalmente dobbiamo dire che anche in questo caso abbiamo selezionato la parte di grasso che contiene cellule mesenchimali, abbiamo scartato quella che non ci interessa, per poi riportarlo in una seringa particolare e iniettarlo in articolazione. La seringa particolare è quella che vediamo qui in alto? Perfetto, sì. Dobbiamo dire che in realtà questo tipo di trattamento è leggermente più complesso, nel senso che facciamo questa liposuzione, ma poi se vogliamo essere più accurati non ci limitiamo alla semplice infiltrazione, ma facciamo un piccolo accesso artroscopico all'interno dell'articolazione. Parliamo per esempio del ginocchio e qui andiamo a ispezionare le cartilagini, andiamo a rimuovere eventuali frammenti cartilagini e intraarticolari e poi andiamo ad iniettare le cellule mesenchimali. Il prelievo sempre e solo lì nella zona della pancia? Allora diciamo che questo è il prelievo, la sede principale, perché noi sappiamo che chi più chi meno ha un pochettino di adipe, ma lo possiamo prendere anche dalla coscia. Senta, l'infiltrazione poi come viene fatta? Quanto dura? Allora, come dicevo, possiamo fare la semplice infiltrazione intraarticolare oppure sempre nella stessa sede, siamo già in sala operatoria in questo caso facciamo un intervento in artroscopia, quindi un piccolo tagliettino di 5-6 mm sul ginocchio introduciamo l'artroscopio, quindi la telecamera che ci fa vedere l'articolazione fatto questo andiamo, se c'è bisogno, a ripulire con uno strumento particolare la parte di cartilagine lesionata e iniettiamo il grasso che abbiamo visto. Sembra che dalla grandezza anche della siringa dura pochi minuti? Sì, l'intervento in sé diciamo tutto, dal prelievo delle cellule alla centrifugazione alla poi infiltrazione oppure all'immissione all'interno dell'articolazione siamo tra i 30 e i 40 minuti. Quanti trattamenti servono in questo caso? In questo caso può essere sufficiente anche un solo trattamento, ci sono tantissimi lavori la metodica è nuova ma c'è stato uno studio molto molto importante prima il trattamento può in alcuni casi essere sufficiente anche in una sola soluzione. Vantaggi per il paziente? I vantaggi sono molto importanti, ci sono risultati, anche in questo caso dobbiamo parlare di risultati immediati e di risultati nel tempo. Se noi parliamo di risultati immediati, noi sappiamo che le cellule mesenchimali quindi le cellule staminali adulte hanno anch'esse un grande potere antinfiammatorio quindi agiamo sull'infiammazione, quindi agiamo sul dolore e questo è un risultato che noi otteniamo in tempi relativamente brevi non nel giorno stesso ma nei giorni a seguire possiamo, il paziente riferisce già diciamo una riduzione della sintomatologia dolorosa. dopodiché queste cellule devono agire, devono differenziarsi, devono ricreare tessuto e per fare questo necessita di mesi non di giorni e quindi abbiamo risultati sia a 6 mesi che a 12 mesi con, come dicevo, risultati molto molto importanti. È naturale che in questo lasso di tempo l'articolazione deve essere tenuta, non dico a riposo, cioè non vuol dire che non dobbiamo camminare o dobbiamo camminare con le stampelle ma sicuramente dobbiamo fare un po' di attenzione, non dobbiamo sollecitare troppo l'articolazione che abbiamo trattato. Uno sportivo di sicuro non può tornare subito in campo. Assolutamente no. Senta invece eventuali rischi e controindicazioni di questa metodica? Torniamo al discorso che abbiamo fatto già prima. I rischi intesi come prelievo e come infiltrazione non ci sono, o perlomeno ci sono come per una qualsiasi altra infiltrazione. È comunque un gesto chirurgico, quindi la sterilità, la sepsi deve essere il fattore principale. Dopodiché il rischio nel trattamento in sé non è contemplato. È contemplato la possibile, per esempio, infezione, ma questo è in un qualsiasi tipo di trattamento se noi non siamo ligi nel rispettare tutte le regole, ma noi questo trattamento lo facciamo in una sala operatoria dove la sterilità è d'obbligo. Dalla sua casistica che cosa emerge? I risultati migliori li ha ottenuti per ginocchio, anca, spalla? Allora, in onestà dobbiamo dire che questo è un trattamento talmente nuovo dove noi siamo all'inizio del trattamento, quindi non possiamo trarre conclusioni, o perlomeno non posso trarre conclusioni personali. Come magari per il gel piastrino. Io mi posso basare su quello che a oggi mi dice la letteratura e mi dice che è un trattamento che deve essere sicuramente praticato, che noi dobbiamo promuovere, ma al tempo stesso dobbiamo essere bravi a selezionare il paziente. Se noi promettiamo la rigenerazione cartilaginea, se noi promettiamo che sconfiggiamo l'artrosi, se noi diciamo al paziente di 70, 80, ma anche 60 anni che ha un quadro di usura importante, non ti preoccupare, ti salvo, non farai una protesi, stiamo mentendo al paziente, stiamo mentendo anche alla medicina. E questo le fa onore. L'ultima, queste infiltrazioni di cellule mesenchimali potrebbero essere utilizzate anche in chiave preventiva, per farlo dire. Allora, questo è il mio parere personale. Io penso di no, perché comunque parliamo di chirurgia o medicina rigenerativa, cioè vuol dire che a monte ci deve essere un danno, ci deve essere una lesione. Quindi trattare un'articolazione completamente asintomatica, perfettamente sana, non ha un razionale, secondo me. Sulle lesioni, anche di lieve entità, sicuramente possiamo cominciare già a trattarle. Era magari un po' in chiave preventiva per cautelarmi in caso di artrosi. Grazie, grazie al dottor Gabriele Tavolieri, la ospiteremo ancora quando aumenterà la casistica, soprattutto per le cellule mesenchimali e magari anche per un aggiornamento sul gel piastrinico. Mi farebbe molto piacere, grazie. Grazie, grazie a lei, grazie al dottor Gabriele Tavolieri, dirigente responsabile ortopedia a casa di cura Pierangeli di Pescara, con lui abbiamo parlato di metodiche innovative riguardanti la medicina rigenerativa, grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione, grazie a voi i tre spettatori, con voi ci vediamo la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.